Sforzato piano, fortissimo piano, crescendo. Cerchiamo di realizzare queste cose qua, forte, sforzato. Sforzato piano, inizio, trio, senza ripetere. Attacco trattenuto. Io qua cadrò con una pera. Seconda parte. E' subito piano. Facciamo del piano decrescente. Che me lo sono già dimenticato. Comunque vabbè, ok. Ecco. Sforzato, dopo sforzato. Ok. Uno, due, tre, quattro, due, tre, quattro, due, tre. Ok, sì. Allora. Allora, mano sinistra sta messa qua. Senza farlo vedere a nessuno te la prepari qua. Poi fai. Un, due, tre. Ok? Quindi. Quando comincia tutta cosa, tira, da, tira. La mano sinistra sta qua. Tira, da, tira. Poi va giù e alzi questa così. Grazie. 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 Grazie.